Oggi sicuramente video particolare e diverso dal solito perché come avete letto dal titolo vi mostrerò la mia tesina che portai per quanto riguarda gli esami di stato e come avete letto benissimo dal titolo io nel 2018 ho portato la tesina sui personaggi Marvel. Sicuramente vi metterò tutte le immagini del slide che creai al tempo qui a fianco a me un po' per farvi capire quello che avevo realizzato. Questo è un po' diciamo lo schema ma adesso sicuramente ve lo farò vedere meglio. Questo lo stampai al tempo ovviamente era la mappa degli esami di stato e io al tempo facevo ho fatto il liceo musicale quindi ho dovuto collegare le materie che frequentavo in quel corso nel liceo musicale. D'italiano avevo collegato Pirandello e le maschere per quanto riguarda il personaggio di Spider-Man, le diverse maschere di Spider-Man perché Spider-Man è Peter Parker, Spider-Man, cioè era perfetto. Per tecnologie musicali che era una materia di indirizzo come potete ben capire avevo collegato la colonna sonora perché in tecnologie musicali si studiava la musica, la colonna sonora, i film muti e tante altre cose quindi avevo collegato la colonna sonora degli Avengers e quant'altro. In arte invece la pop art, una tecnica artistica con tutte le varie immagini dei supereroi che avevo trovato su internet fatto appunto in pop art, vabbè, con storia la guerra mondiale per quanto riguarda Capitano America perché sappiamo Capitano America soprattutto nel primo film ha l'ambientazione della guerra mondiale quindi lo avevo collegato in tal senso lì anche se mi sembra che io qui avevo scritto la seconda guerra mondiale ma in realtà se non dico una cavolata il film del primo cap è ambientato durante la prima guerra mondiale però diciamo che non era stato un errore ma era stato voluto perché la seconda guerra mondiale io la sapevo meglio rispetto alla prima e quindi avevo portato la seconda guerra mondiale tanto non è che chi stava in esame diciamo chi sentiva la tesina sapeva queste cose era molto difficile infatti non lo sapevano e andando avanti storia della musica avevo collegato l'amicizia tra Wagner e Nietzsche perché loro condividevano la stessa visione del mondo e dell'arte per quanto riguardava il superuomo superuomo che poi ritroveremo anche con filosofia perché avevo collegato anche filosofia e il superuomo di Nietzsche sia in filosofia che in storia della musica era molto diciamo presente il tema di Iron Man perché Iron Man comunque sia è a tutti gli effetti un superuomo per come è trattato nel Marvel Cinematic Universe ma anche nei fumetti ecco e io ho deciso di fare questo video perché mi andava di farlo ecco spero che vi possa essere piaciuto e ovviamente poteva anche essere utile a chi magari doveva fare o chi farà fra qualche anno l'esame di maturità ma se non sbaglio penso che sia stata abolita la tesina ed è un peccato perché questa è una tesina assolutamente proprio innovativa se così si può dire perché non è la classica tesina che si porta non lo so sulla guerra mondiale o su quant'altro infatti io mi ricordo che quando la portai fui l'unico non solo della mia classe ma proprio di tutta la scuola e mi fecero anche i complimenti i professori e anche quelli venuti da fuori i professori esterni e quant'altro per l'originalità ecco perché comunque sia è una cosa originale quindi mi dispiace che perché poteva essere non lo so questo video anche una fonte di ispirazione per chi magari è appassionato dei supereroi come me e magari voleva portare una tesina originale allo stesso tempo divertente perché io a esporla mi sono anche divertito cosa che a scuola io non mi divertevo mai anzi tutt'altro quindi non apriamo non apriamo questa parentesi ma poi ovviamente questo era la mia tesina l'ho creata io perché facevo il liceo musicale quindi non è che potevate farla completamente uguale ma ci potevano essere tantissimi altri collegamenti io mi ricordo che al tempo avevo magari in mente di collegare fisica o scienze con i raggi gamma e quindi parlavi di Hulk però i raggi gamma è un argomento abbastanza complesso quindi decisi di non portarlo ho sempre coscienza e potevi parlare del fenomeno dei fulmini collegandolo ovviamente con Thor potevi fare tante altre cose perché i personaggi Marvel hanno tantissimi aspetti che si possono collegare alla scuola sembrerebbe a primo impatto di no ma in realtà è più semplice di quanto si pensi ecco secondo me io ricordo che al tempo mi ci sono veramente divertito molto a creare le slide l'avevo fatte tutte con i vari effetti proprio mi ero mi ero divertito come come non mai infatti non è più non è più successo per quanto riguarda la scuola perché io la scuola abbiamo un rapporto un po' così ecco però mi ero mi ero divertito ero contento che mi abbiano fatto i complimenti da questo da questo da questo punto di vista molti professori mi ricordo anche fecero delle domande in merito ai film ai personaggi quindi ero ero rimasto ero rimasto molto soddisfatto del prodotto finale quindi ecco non so se questo possa essere un video ispirazione ripeto io sapevo che erano stati abolite erano state abolite le le tesine forse alle medie ancora si fanno non lo so però per quanto riguarda non so licei e quant'altro istituti professionali mi sembra le avevano le avevano abolite infatti mi ricordo che nel 2018 è stato l'ultimo anno quello dove io ho fatto l'esame di maturità è stato l'ultimo anno che aveva le tesine dall'anno in poi dal 2019 in poi le tesine furono furono abolite quindi sono stato anche fortunato perché cavolo mi sarebbe dispiaciuto non portare una tesina sui supereroi sui personaggi Marvel che tra l'altro e poi chiudo è stato anche tra virgolette un rischio perché moltissime persone soprattutto chi non conosce questi personaggi chi non conosce i film chi non conosce i fumetti dice che vedendo i film della Marvel leggendo i fumetti della Marvel sia una cosa da immaturi ecco essendo questo e chiamandosi questo esame di maturità dovresti portare un qualcosa che faccia capire che tu sia maturo ok quindi avevo anche un po' il timore che questo progetto questa tesina che io portai non fosse capita appieno invece devo essere sincero sono stato anche fortunato perché il commissario esterno aveva sui 60 anni quindi non era nemmeno giovanissimo non è che ora 60 anni sei vecchio però non era nemmeno giovanissimo e quando entrai e avevo detto quale sarebbe stato l'argomento della tesina lui subito molto contento dicendo che li aveva visti tutti i film della Marvel io ero rimasto a bocca aperta perché ero stato anche fortunato da quel punto di vista quindi era piaciuto anche molto al commissario esterno e non è una cosa da poco quindi io vi ringrazio spero che questo video particolare vi possa essere piaciuto lo spero e niente vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao a tutti